Il mercato dell'elettronica in Italia vale oltre 15 miliardi di euro, però è caratterizzato da tanti fenomeni distorsivi del mercato. Come commenta questi dati e anche questi fenomeni? Dunque, in qualità di presidente di AERES, avendo noi ovviamente una visione a 360 gradi del mercato, soprattutto il mercato web, che per noi ci tengo a dire è una grande opportunità. Una grande opportunità, ma però è un po' inquadrato come se fosse, il rapporto lo evidenzia molto bene, un bambino piccolo, appena nato. Un bambino appena nato va guidato, va istruito, va formato e gli vanno date delle regole. Questo è un po' il quadro in cui ci troviamo, un mercato che in questo momento sia per le carenze legislative, regolatorie, fiscali, è un po' un mercato libero, totalmente libero, dove le regole della competizione purtroppo non valgono, della corretta competizione. E quindi quello che appare da questo rapporto, dove diciamo luci e ombre, le luci sono il grande lavoro che questa federazione sta facendo e quindi che sta facendo emergere diversi effetti, diverse problematiche. Le ombre sono appunto derivanti dalla quantità, che io oserei dire impressionante, di situazioni che emergono, di illeciti che emergono sui più svariati campi di applicazione e di competizione, quindi dalla frode nei confronti dei clienti, dei consumatori, all'evasione fiscale, alla violazione delle norme sulla privacy e così via. Quindi direi che c'è un bel assortimento di problematiche e di illeciti che vengono citati. Aires, appunto, cosa propone al governo, al Parlamento per porre fine a queste problematiche? Ma io dico, quello che proponiamo è innanzitutto, quello che vogliamo fare è una sensibilizzazione di fronte a questi problemi di cui a sensazione non c'è ancora la percezione approfondita. Quindi innanzitutto vorremmo informare il governo, vorremmo informare i parlamentari di questa situazione. Le proposte prima di tutto convergono, a parte la famigerata web tax di cui mi sono quasi stancato di parlare e su cui sembra che almeno a parole ci sia la convergenza ma nei fatti non si trova lo spunto per poterla rendere effettiva. A parte quella, secondo noi un'altra priorità riguarda la regolamentazione del marketplace, quindi di un'area totalmente spresidiata o meglio presidiata da regole antiche, regole che sono state fatte oltre 20 anni fa e che quindi in un momento in cui non esisteva ancora il web e non c'era ancora questa proliferazione di di attività, di micro imprese che operano sotto insegne anche importanti, sotto nomi importanti ma nella totale spregio di qualsiasi tipo di normativa. Sta parlando della responsabilizzazione delle piattaforme degli intermediari digitali? Esattamente, accolto nel segno, è quello che intendevo proprio per questo motivo per cui questi grandi player ospitano sui loro sistemi spendendo il loro nome, dando loro servizi e guadagnando parecchi soldi, molte aziende, molte aziende anche sane, quindi questo è tutto buono e dovrebbe essere così, ma operano in questo ambito anche tante aziende che diciamo sono un po' borderline per come operano e per quelli che sono i risultati che stiamo vedendo appunto anche tramite Optime con conseguenti evasioni fiscali e quindi comportamenti direi quanto meno discutibili. Optime con questo rapporto si rivolge non solo al Parlamento e al Governo ma direttamente ai consumatori, che cosa possiamo dire loro? Ecco, possiamo dire loro una cosa molto semplice, prima di tutto essenzialmente fare attenzione, questo come ho definito prima questo bambino appena nato con pochi mesi di vita se lo rapportiamo alla vita intera è un bambino che fa dispetti, quindi bisogna stare attenti, approcciarlo con prudenza, non evitarlo perché anzi bisogna dare una mano a questo bambino a crescere, però voglio dire approcciarlo con prudenza e quindi avere quelle accortezze quando ci sono prezzi troppo differenti, sconti troppo alti, dubitare perché diciamo che dietro questi tipi di promozioni si può sempre nascondere qualche apparente affare ma in realtà qualche fregatura o qualche problematica di violazione di leggi e di norme a cui il contribuente inconsciamente può dare adito. Grazie.